buongiorno e benvenuti in questo nuovo video benvenuti in questo nuovo video spesa questa qui è la nostra spesa settimanale per chi magari ci vede per la prima volta noi siamo una famiglia numerosa siamo otto persone ci sono io c'è Maurizio mio marito e poi i nostri sei figli e questa qui è la spesa settimanale questa volta sono andata da Lidl all'Eurospin e al Bennett e direi di cominciare subito vi faccio vedere subito quello che abbiamo preso iniziamo subito da Lidl dove ho preso questa zucca che è in offerta e vi lascerò scritti i prezzi in sovrappressione e poi una confezione di castagne morbide che ho mangiato io per merenda una confezione di pere queste qui piccoline che sono pere coscia che sono in offerta una confezione di sfogliatine glassate per la colazione a casa per i ragazzi per questo qua avevo un coupon che mi levava cioè avevo il 44% di sconto e quindi le ho prese appunto che così per la colazione vanno benissimo poi ho preso 8 confezioni di passata di pomodoro c'era il 3x2 sulla panna da cucina quindi ne ho approfittato poi abbiamo preso due shampoo uno alla mela e uno all'argan questi qui non li ho mai provati quindi se voi li avete già provati fatemi sapere come se vi sono piaciuti oppure no come 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 vi sembrano noi li proveremo e poi vi farò sapere tre confezioni di fagioli rossi in lattina una confezione di stuzzichelle gusto bacon poi ho provato a prendere questa vitamina c in venti compresse effervescenti una con un sacco di patate da 4 chili una confezione di canestrelli una confezione di crackers salati senza granelli di sale in superficie una confezione di tonno al naturale un tubetto di maionese per fare il panino gabriele mercoledì che avrà rientro un sacchetto di ceci anche per secchi anche per questo avevo un coupon che mi levava invece il 41 per cento sul prezzo totale quindi ottimo un sacchettino di aglio un pacchetto di biscotti questi qui fior di zucchero un barattolino di filetti di acciuga in olio d'oliva una confezione di penne di mais e riso senza glutine un gorgonzola dop dolce due confezioni di viustel di pollo e tacchino tre confezioni di spaghetti di mais e riso due confezioni di grana padano dop grattugiato una confezione di grana padano a cubetti quattro tofu affumicato un cubo diciamo di prosciutto cotto di alta qualità tre stracchino cremoso che ci serviranno sabato sera per fare la pizza tre confezioni di uova c'erano ancora queste qui xxl e quindi le ho prese perché comunque noi di uova ne consumiamo veramente tante due confezioni di petto di pollo intero questa qui da un chilo 122 pagato 8 euro e 40 e poi questa qui invece da un chilo 211 9 euro e 07 un panetto di burro due mazzetti di cipollotti una confezione di emmental bavarese sempre per i panini di gabrile scontati c'erano questi ravioli diciamo cinesi e quindi li ho presi per i ragazzi per farli provare e li mangeranno stasera poi piselli fini una confezione di mozzarella questa qui è quella 4x250 due confezioni di crocchette di patate una confezione di prezzemolo tritato poi erano in offerta al 50 per cento e le mozzarelle ne ho prese otto da mangiare stasera tre confezioni di burger di pesce a base di merluzzo d'alaska questi marshmallow cocktail per le bambine principalmente ma poi li mangeremo un po' tutti una confezione di hamburger di tacchino che si sono anche spiaccicati e tre confezioni che erano in sconto di arosticini di suino e basta questa qui è tutta la roba che ho preso all'idle e adesso vi dico un attimino quanto ho speso allora per tutta questa roba abbiamo speso 120 euro qualche cosina comunque ve lo scrivo qui in sovraimpressione grazie appunto agli sconti alcune cose in offerta alcune cose pure scontate e grazie agli sconti della carta dedicata a te quindi ottimo e niente adesso io metto via le cose del freezer e poi vi faccio vedere le cose che ho preso all'euro spino ho preso veramente pochissime cose e ho preso l'olio di semi vari della marca collina d'oro a 1 euro e 69 pasta sfoglia senza glutine rotonda a 2 euro e 19 panna senza lattosio a 1 euro e 45 i semi di zucca bio 2 euro e 69 e poi due confezioni di pomodoro ciliegino a 1 euro e 29 l'uno e questo è tutto quello che ho preso all'euro spin e in tutto qui ho speso 10 euro e 60 adesso vi faccio vedere quello che invece ho preso al bennett dove ho preso queste patatine sapete che sono fissata con i cornetti e ho voluto prendere questi qui anche del bennett per della marca l'ice per provarli e vedere quali mi piacciono di più questi li ho pagati 1 euro e 79 una confezione di pancetta della negroni questa qui è pancetta affumicata ci sono 4 vaschettine e l'ho pagata 4 euro in offerta poi questi donuts alla vaniglia non fritti senza glutine a 2 euro e 29 una confezione di tonno all'olio d'oliva marca bennett questo qui costava 2 euro e 50 tipo 2 euro e 60 anche questo era scontato una confezione di carta da forno a 1 euro questa qui poi un detersivo per la lavastoviglia liquido che ho pagato 3 euro e 79 di questa marca qui non l'ho mai provato vedremo com'è una confezione di farina gialla per polenta fioretto questa qui è senza glutine e l'ho pagata 1 euro e 39 da un chilo basta per tutti poi ho preso il lievito fresco a 0,29 l'uno quattro porri così che ho pesato e ho pagato 3 euro e 90 un broccoletto da mezzo chilo che stava a 1 euro e 75 e poi due verge questa qui un chilo 8,64 per 1 euro e 85 e questa qui invece un chilo 3,62 per 1 euro e 35 siccome era in offerta 99 centesimi al chilo l'ho presa anche perchè ha altre verdure in offerta a parte i pomodori che non sono più di stagione quindi ho preso i ciliegini per fare una ricetta però non prenderò più pomodori perchè non sono di stagione e quindi devo trovare altre verdure ho trovato la verza in offerta e mangeremo la verza e questo è tutto quello che abbiamo preso con me c'era Manuel appunto e abbiamo speso 26,61 euro anche qui ho pagato con la carta dedicata a te e dal Bennett mi hanno dato un buono da riutilizzare sulla prossima spesa di 3,99 euro con la spesa del Bennett siamo arrivati alla fine della spesa per questa settimana e quindi siamo anche arrivati alla fine di questo video spesa che spero che vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia e io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao 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 Grazie a tutti.